Eccoci qui cari amici, buona domenica a tutti, siamo di nuovo qui perché non poteva che mancarci la rivelazione su Alberto De Pisis. Ebbene sì, da fuori la voce ha parlato molto chiaro, limpido, cristallino, non ci sono dubbi. Sono giorni complessi questi per il grande fratello con delle polemiche che ci sono in continuazione, questo sì. E in uno dei tanti commenti ad esempio si legge, ehi ma oltre a donna Maria anche altri avrebbero dovuto aprire la porta rossa e uscire con una bella pedata. Ma poi in puntata signorini di che cosa stava parlando? Ora è un continuo a tirare in ballo Nikita che ingenuamente confessa il suo intimo pensiero nei confronti di disonestini, ma lei viene ridicolizzata mentre la venezuelana che sta facendo due maroni a tutti, tutti i giorni poi lo fa. E invece che fa? Quello va bene così? Purtroppo la prossima vittima del GF sarà Daniele che aveva avvertito che per parlargli bisognava aspettare che sbollisse il peso della puntata invece lei subito sotto e quanto avvenuto poi era immaginabile. Insomma il GF peggiore di sempre dove tra i concorrenti c'è il GF che fa le sue nomination neanche più segrete e non mi dite che non è così. E ancora, durante le nomination rifanno vedere il video di lunedì di Nikita e Antonella già. Andato in onda. Ma dai, mettete Nikita in nomination d'ufficio e basta ci fate più bella figura. E poi dite che fa la vittima. Ma al suo posto cosa avremmo fatto noi? Insomma, la puntata di domani si annuncia incandescente. Intanto al GF VIP 7 è venuta a galla una rivelazione su Alberto De Pisis. Molti si sono accorti che è il vippone che ha ricevuto meno visite. Una situazione pesante. In particolare, la settimana scorsa l'influencer aveva avuto un forte crollo emotivo. Ma neanche quello sfogo ha fatto sì che venisse qualcuno a fargli visita. Il motivo lo svela un post. Sentiamo il dovere morale e professionale di dare risposte ai sostenitori di Alberto che da mesi si chiedono perché Albi non riceva soprese. La sua famiglia, fatta eccezione per la mamma, ha chiesto fin dall'inizio di non essere coinvolta. E ancora, a noi le motivazioni non interessano perché le rispettiamo a prescindere. Alberto era consapevole di tale posizione prima di entrare. Scriviamo queste parole pubblicamente perché non è corretto leggere che la colpa di tale mancanza sia degli autori o del grande fratello.